1, 2, 3, come on! Tornati in questo nuovo video e in questo video qua vi voglio appunto far vedere il pass battaglia della season 4 capitolo 2 allora, intanto che credo sapere tutti è della serie Marvel infatti ci sono un sacco di skin Marvel e poi per esempio come vedete qua a livello 8 sta quel libro che ti da emissioni in questa cosa per ottenere il piccone di Thor o molte volte tipo degli stili e cose vi dico soltanto le skin e scorro intanto allora, per esempio qua ci sta Thor che vedete qua poi a livello 15 lo stile a livello 22 Jennifer Walters a livello 29 lo stile a livello 38 Groot e ci sta anche tutto per esempio Delta Plano e tutto il set a livello 46 e missioni per lo stile di Groot Storm a livello 53 a livello 60 le missioni per lo stile di Storm a livello 67 a livello 67 Dr. Doom al 74 lo stile di Celle cioè le missioni per lo stile di Dr. Doom ovviamente vi farò vedere piano piano che arriverò a livello 80 Mystic a livello 86 la missione per lo stile di Mystic a livello 93 Tony Stark e a livello 100 puoi fare le missioni per Iron Man io ogni volta che ce li farò ve le farò vedere e vabbè da me è tutto ci vediamo nel prossimo video bene però Toki ma Grazie a tutti.